...la scienza andare, una vecchia chiesa indignata per il credo dell'irreverenza, nuovo tempio all'attorno del giovane e del probito, tempo di gioco, demonio, divinità, Chubox tappezzate di Giodi, unione rituale con gli altri e un solo corpo danzante, carne che chiede carne, uraga non nei desideri sessuali, scossa nel perbenismo familiare, la promessa di piacere, il sacro vincolo del godimento, godere è un obbligo, Dio benedica chi goda. È arrivato il momento che tutti aspetteranno, il twist. Chi saranno i nostri protagonisti? Come ti chiami? Francesca. E tu come ti chiami? Claudio. Loro sono marito e moglie. A voi, il palco, musica, maestro. Maria, che ho già letto spiro pure, La mia tipa è un vampiro, è pazza di me. Sei più bella da te. Lei che parla alla donna, le pos, la vanno, sono giù, posso stare a te. E con più bravi ragazzi, è delirio, è degno. Ti guardiamo è bam 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 bam, lo triste poi bam 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 bam, Bella, mam bam bam bam, ragazzi fuori bam 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 bam. Siamo sopra il tocone E te, e te Si inizia la rapina Svoto le tosse E più di te Ti do una bottina E una madonnina Che piace per me Ma poi mi rovina E io che so farmi rovinare Il dadino E poi E poi Ragazzi Bambam Sì Bambam Bambam Sopra Schede Una moulotto Una moulottola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.